buongiorno a tutti ragazze e ragazzi e buon anno anche se ormai siamo a fine gennaio di questo inizio 2023 ma si può dire ci sentiamo solo ora con questo vlog di ricapitolo mensile e da quest'anno anzi sì probabilmente fino a fine anno sarà così poi non lo so diciamo che ho preso una decisione visto che il canale praticamente va molto lentamente va veramente a rilento mi sembra un po' inutile sentirci tutti i mesi o meglio sentirci tutti i mesi per dirvi più o meno le solite cose cioè che abbiamo iniziato questo stiamo facendo quello quando questo quello sono saranno sicuramente serie che dureranno mesi anche se in teoria no ma per la situazione in cui sono adesso o almeno per la situazione in cui sono quest'anno in cui sarò quest'anno con diciamo la mia postazione tutto non posso fare di meglio infatti per esempio god of war è uscito i primi di novembre tuttora siamo ancora in ballo e lo saremo mi sa ancora per un bel po anche se magari in un'altra situazione in un altro frangente potevamo averlo già finito ovviamente ma così è tra l'altro di recente ho avuto anche dei problemi o comunque non sono riuscito a dedicarmici ho saltato una settimana cosa che potrebbe tranquillamente ricapitare con qualsiasi altro gioco cioè appunto per chi non lo sapesse per tutto l'anno sicuramente spero per fine anno no sono in una sistemazione diciamo provvisoria in affitto in un piccolo appartamento insieme insomma i miei genitori perché poi andremo a trasferirci a fine anno in una casa nuova più grande dove avrò praticamente un piano tutto mio con lo studio eccetera 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 quindi essendo una situazione provvisoria diciamo è già un miracolo che riesco a fare quello che riesco a fare ecco e quindi appunto è inutile che magari ci sentiamo in maniera regolare o in maniera sì tutti tutte tutte le fine del mese la fine di ogni mese per appunto dirvi cioè adesso siamo a fine gennaio noi siamo così a fine febbraio è probabile che saremo ancora così cioè con Elden Ring ancora in corso con Godofor ancora in corso e con Returnal in pausa è molto 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 probabile perché non so se cioè forse sì forse un'altra serie riesco ad aggiungerla però non è detto può accadere di tutto diciamo che se aggiungo qualcosa lo aggiungo solo quando l'avrò finito e sto parlando di Deccallisto Protocol infatti io pensavo per fine dicembre di riuscire a iniziare a registrarlo invece così non è stato anche perché poi il lavoro è aumentato tantissimo arrivavo a casa tardi e tuttora che si può dire abbiamo ripreso non è che torno proprio prestissimo cioè nel senso le mie dieci ore di lavoro me le faccio tutti i giorni quindi sono anche stanco e non ho magari la benché minima voglia di mettermi lì e registrare anche perché c'è il piccolo dettaglio che io la postazione la monto e la smonto tutte le volte che la devo usare perché non potendo cioè non avendo appunto quel locale dedito a studio dove praticamente non entra nessuno a parte me ho gli animali che girano per casa e uno dei miei gatti adesso è tantissimo che non lo fa però non mi fido sinceramente a lasciare la postazione montata ma uno dei miei gatti aveva almeno il vizio di mangiarsi i fili ma anche abbastanza pesantemente come fosse un topo praticamente quindi siccome insomma è materiale che costa poi i cavi magari non sono neanche così facilmente reperibili poi dipende dal cavo ovviamente per evitare ogni problema e ogni inconveniente io tutte le volte che devo anche solo usare il computer magari che non devo per forza registrare magari devo solo editare o renderizzare devo montare tutto tutti i cavi tutto tutto poi quando ho finito devo rismontare tutto quindi sì ormai perdo massimo massimo un quarto d'ora non di più to 10 minuti a montare a smontare ce ne metto 5 però non sempre ho voglia di fare questa trafila soprattutto se torno dal lavoro e sono stanco ecco quindi ho pensato inutile che sto qui tutti i mesi a dirvi quello che farò quello che abbiamo in corso eccetera anche perché come avete potuto vedere i miei piani saltano e anche abbastanza bene spesso come ho detto poc'anzi io decallisto protocol volevo già iniziarlo e così non è stato magari adesso volevo registrare dead space remake e così non sarà anche our legacy che mi interessa lo vorrei registrare ma così sicuramente non sarà intendo non sarà con non sarà intendo al day one ovviamente unica cosa che posso dirvi è che metto tutto in coda cioè una volta che ho iniziato e finito decallisto protocol allora magari passo a dead space per esempio una volta che ho iniziato che ho iniziato e avrò finito quasi insomma dead space inizierò con our legacy per forza e nel mentre nel mentre porto avanti god of war perché adesso come diciamo unica serie attiva è rimasta god of war perché perché elden ring sono riuscito a finirlo anche se sul canale è ancora in corso e probabilmente lo sarà forse per il prossimo mese e mezzo perché anche se appunto gli episodi li ho tutti registrati non li ho ancora tutti renderizzati perché ho anche l'inconveniente che potendo diciamo cioè dovendo appunto montare la postazione per poi anche poter editare renderizzare di conseguenza posso renderizzare solo quando io sono presente a casa perché ormai e per tutto quest'anno sarà così di notte il pc non lo posso far andare perché fa rumore poi c'è sempre il problema del gatto quindi delle volte e infatti di recente anche successo praticamente ho rinunciato di registrare il mio unico giorno di riposo per dedicare tutta la giornata alla renderizzazione se no sul canale non riuscivo più a pubblicare nulla perché è così anche adesso alla sera quando arrivo a casa quelle tre ore che ho a disposizione il più delle volte praticamente le dedico alla renderizzazione dei video e quando il computer sta renderizzando io non posso registrare eh sì è così è così è così diciamo che la mia situazione è un po questa ma lo ho già dato da qualche mese spero che per fine anno tutto vada come deve andare anche se diciamo la casa nuova va ristrutturata e va ristrutturata abbastanza pesantemente perché ancora al suo stato originale quindi ci vuole il suo tempo per fare le cose fatte bene come ho detto prima l'unica cosa che vi posso promettere è che questi titoli che ho citato ve li porterò sì ma tutto in coda inizio uno lo finisco poi inizio l'altro lo finisco poi inizio l'altro è ovvio non sempre ovviamente aspetto proprio la la fine del gioco per pubblicarvi il primo episodio dipende dal gioco per esempio mi sto sì di recente comunque magari mi informo un po di più sulla durata dei giochi in sé quindi io dovrei aver letto che The Callisto Protocol dura circa una decina di ore più o meno allora in questo caso visto che è un gioco si può dire corto è uno di quei casi dove dico beh allora lo registro tutto e poi quando ce l'ho tutto lo pubblico altri giochi come Hogwarts Legacy è ovvio che non aspetto la fine perché sarà un gioco probabilmente da 50 100 ore non lo so comunque lungo no in quel caso lì no se no lo vedrete forse a luglio quindi magari aspetto di averne appunto un po poi magari nel mentre che ne so finisco per esempio God of War che anche un altro uno di quei giochi medio lunghi penso e allora mi libero un po di più eccetera 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 ecco quindi da questo mese fino a che non sarò nella nuova sistemazione insomma non aspettatevi di sentirmi così spesso o meglio mi sentirete quando magari avrò qualcosa da dire magari anche più spesso eh se è per questo però non è detto comunque quando avrò delle novità vere magari appunto dei cambi di serie eccetera o idee mie di qualcosa non lo so insomma per tenervi un po aggiornati farò il mio questo vlog insomma diciamo di ricapitolo anche se non sarà più ricapitolo mensile per quanto riguarda il discorso di Returnal sì ho in via del tutto si può dire eccezionale o contro il solito mio modus operandi ho deciso di interromperlo e riprenderlo a data da destinarsi perché appunto essendo in questa situazione ho il tempo contato perciò ho pensato è inutile che sto lì a magari smadonnare su un gioco che non mi sta più divertendo quindi poi le sedute di registrazione anziché un passatempo di piacere diventano una tortura quindi ho pensato siccome mi stavo veramente innervosendo con Returnal per la natura del gioco se non pensavo però fosse veramente così punitivo in un certo senso cioè che veramente cioè sia un roguelike ok però tipo anche ades è stato un po pesante finirlo però comunque degli aiuti il gioco te li dava insomma per renderti la vita un po più come posso dire piacevole in un certo senso meno frustrante ma Returnal è veramente veramente punitivo dovrei essere penso all'incirca metà gioco però io sinceramente finché non mi viene il guizzo di dire ciao ma riprendiamolo in mano e vediamo di finirlo la serie sarà in pausa quindi da qui a bo magari lo riprendo tra sei mesi ma non è detto non so mi deve venire quella quella voglia ecco una cosa che forse non so se è la prima volta che mi capita così in maniera pesante perché è capitato anche altre volte ma poi alla fine il gioco l'ho sempre portato a termine però ammetto che in quelle occasioni e sì ero ero stufo di giocarci con altri giochi però appunto in quei frangenti ancora abitavo nella vecchia casa quindi il tempo ce l'avevo i miei spazi ce li avevo anche se si può dire perdevo tra virgolette tempo con un gioco che non mi divertiva dicevo vabbè tanto posso recuperare in un'altra occasione ecco adesso questa cosa questo lusso diciamo non ce l'ho più quindi mi devo dedicare veramente a quei giochi che mi divertono punto e basta visto che ho il tempo si può dire contato per di più poi avendo anche cambiato mesi fa ormai il lavoro il lavoro in generale il nuovo lavoro comunque è più pesante sì beh insomma dipende però comunque c'è si lavora prima magari perché prima facevo praticamente solo le pizze però in generale anche se magari era un po stressante per le ordinazioni gli ordini tenere il banco di pizza sempre pieno in generale però era un lavoro un po più leggero visto che dovevo far solo quello adesso non è più così adesso sono si può dire un cuoco gastronomo insomma di cose da fare ce ne sono tante veramente tante e in grandi quantità non ho più lo stress si può dire delle ordinazioni o di servire il cliente eccetera perché non è più compito mio si può dire però vabbè comunque un lavoro un po stressante perché i tempi sono stretti insomma la i prodotti devono essere pronti entro un certo orario quindi diciamo ci sono altre cose che stress si può dire ecco però è certamente più pesante perché è neanche a farlo apposta appunto a fine dicembre per la quantità di roba che serviva appunto mi facevo anche 10 barra 11 ore senza pausa cioè dalle 6 del mattino fino alle 16 o le 17 di pomeriggio senza pausa senza quasi senza mangiare senza bere questo però è una cosa mia cioè di certo non mi negano nel bere nel mangiare però io sono fatto in modo che quando lavoro non ci si può dire non penso ad altro ci sono dentro una macchina che non va neanche in bagno si può dire o se va in bagno una volta e lavora continua a lavorare quindi arrivo a casa che sono veramente morto poi di recente dopo la befana è successo che due in un colpo solo sono nati in ferie o meglio uno ha preso proprio ferie due settimane invece un altro qualche giorno quindi ho avuto quattro giorni veramente si può dire d'inferno perché diciamo le cose che prima magari facevi in quattro adesso dovevi farlo in due o in tre quindi più lavoro per me ovviamente ovviamente quindi anche in questo frangente facevo dalle 6 del mattino fino alle 16 17 anche perché poi io tecnicamente dove finire via le due e mezza alle 14 30 da turni però cosa cosa pensi se io vado via alle due e mezza poi il lavoro che non faccio quelle ore in più me lo ritrovo il giorno dopo quindi il giorno dopo devo stare devo lavorare il doppio e allora tanto vale stare di più portarsi avanti per il giorno dopo così tutti i giorni diciamo che si finisce un orario decente in certo senso ecco che non sono le sette di sera ecco perché le sette di sera non le ho mai fatte sarebbe tardissimo 13 ore mi sembra un po troppo comunque adesso è proprio l'altro ieri è rientrato uno dei due quindi già meglio però il lavoro vabbè è ripreso proprio alla grande diciamo che ho approfittato ecco approfittato delle due settimane delle vacanze di natale insomma per proprio dedicarmi a elder ring perché mi aveva preso un botto ero proprio nel mood giusto quindi ho detto meglio approfittarne proprio me lo stavo godendo bene e infatti poi sono riuscito a finirlo e forse prima della befana se non ero mi ci avevo dato dentro tantissimo e alla fine sono usciti se non sbaglio 82 episodi credo adesso sul canale voi state vedendo anzi oggi avete visto il 68 io li ho caricati fino al 70 quindi c'è me ne mancano ancora 12 da caricare e anche da renderizzare pensate un po cioè sono quasi forse tre settimane che il gioco l'ho finito ma tra registrare god of war tra renderizzare god of war e dedicarmi a decallisto protocol perché un po sono uscito a iniziarlo anche se sono all'inizio quindi poca roba e non ancora finito di renderizzare episodio di render ring e ce ne vuole ancora niente insomma ragazze e ragazzi questo è quanto ripeto nel caso non abbiate sentito perché poi delle volte mi succede di ricevere domande di cose di cui io parlo quindi le cose sono due o non si sente il video o cioè non si guarda il video fino in fondo o uno è sordo quindi non lo so e ribadisco appunto il concetto che porterò ecco sul canale di sicuro decallisto protocol che sarà il primo la prima serie nuova diciamo che vedrete appena sarò pronto insomma di pubblicarla dopodiché e nel mentre porto avanti ovviamente god of war nel dopo mi dedicherò sicuramente al remake di the space che sono molto curioso di provarlo e dire si può dire rigiocarlo vedere eventuali insomma modifiche che hanno fatto eccetera quando sarò appunto pronto poi mi dedicherò a our world's legacy ecco per ora questi diciamo sono i tre titoli e tre serie che vedrete sul canale poi corso anch'io che tipo il 19 sì di gennaio è uscito per pc persona 3 portable e persona 4 golden in italiano perché su pc persona 4 golden c'era già dal 2020 se non sbaglio però era in inglese infatti io non l'avevo comprato come gioco perché va bene tutto ma c'è l'inglese lo so fino a un certo punto poi stare lì a sforzarmi mentre gioco direi di no a tradurre però al 19 hanno introdotto appunto hanno aggiunto la lingua italiana a persona 4 golden quindi adesso tutte e due sarei molto curioso di giocarci visto che comunque a me persona 5 mi era piaciuto tanto ma non riesco non posso semplicemente perché a parte che ho altri giochi appunto quelli che vi ho detto qui vorrei giocare prima però in futuro chissà vedremo magari l'anno prossimo probabilmente poi so che uscirà resident evil 4 il remake se non sbaglio a marzo però anche quello andrà in coda comunque per marzo sicuramente un altro vlog di aggiornamento ve lo faccio quindi non preoccupatevi ecco cesso so ecco forse so fino a resident evil 4 poi non so cosa esce più in là non mi ricordo comunque per ora mi interessa anche poco sinceramente ero anche curioso anche se in realtà ho provato la demo di forespoken però appunto provando la demo su ps5 non so mi ha lasciato un po titubante da quello che avevo visto mi aveva attirato però provandolo con mano boh mi ha lasciato veramente insicuro come se cioè sento che non non sarà un gran gioco ecco non so qualcosa del genere poi magari però ho smentito eh non so è il mio istinto a suggerirmelo tra l'altro è uscito proprio ieri poi tra l'altro per curiosità ho visto qualche recensione su steam e la maggior parte sono negative ma non per il gioco in sé ma perché su pc come al solito ormai l'hanno ottimizzato pare da cani anche sta cosa veramente di recente pare che un gioco dopo l'altro per quanto riguarda ovviamente la versione pc boh non gli dedichino l'ottimizzazione che meriterebbe perché avevo letto che anche decadisto protocol ha avuto il medesimo problema poi su cosa stranissima su nintendo switch pokemon scarlato e pokemon violetto sono stati mal ottimizzati boh veramente sono un po' su console è molto strano perché su console che io sappia è più facile diciamo programmare o comunque ottimizzare un gioco perché le statistiche c'è le specifiche della macchina sono quelle quindi non c'è diciamo varietà non c'è scelta quindi è quello punto su pc sapevo che era un po' più complicato perché esistono ovviamente moltissime configurazioni hardware quindi devono rendere il gioco diciamo compatibile con tutte quindi è un po' più complicato insomma devi lavorarci di più però veramente di recente pare siano diventati tutti dei cani a programmare boh non lo so quindi diciamo che forse faccio anche bene in generale in questo periodo almeno ad aspettare a a non giocare insomma al day one perché è probabile visto che io gioco prevalentemente su pc è probabile che la versione pc sia quella ottimizzata peggio quindi tanto vale aspettare qualche patch correttivo ormai funziona così e e boh basta quindi ma è stato così anche appunto con elder ring e poi con altri giochi in passato e vabbè boh non lo so va bene ragazze ragazzi questo è quanto spero di essere stato insomma chiaro ah sì vabbè è sottointeso anche se non lo dico mai ma è sottointeso che è molto difficile che vari la mia programmazione soprattutto per come sono messo adesso quindi è inutile anche propormi giochi che usciranno anche tra sei mesi perché adesso non ho neanche la testa per pensarci a giochi che usciranno tra sei mesi cioè e non mi interessa neanche quindi è inutile che mi proponete titoli o altro eccetera sì perché poi succede spesso così do un'occhiata dico ah sì ok interessante poi basta ok non perché comunque le mie idee adesso sono queste sono concentrato si può dire su questi giochi e soprattutto per come sono messo adesso altro di certo non posso fare quindi niente io vi rinnovo gli auguri di buon anno e non vi preoccupate che comunque ci risentiamo presto a parte che ci sentiamo con i soliti video ecco tutti i giorni o quasi vi saluto vi ringrazio e ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi e ragazzi